Ultimi giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto che va ad estendere l'obbligo del Green Pass a milioni di lavoratori, la data potrebbe essere il 10 di ottobre, così come già deciso per i lavoratori esterni dell'RSA, restano in sospeso per il momento soltanto le aziende private per le quali è in corso un acceso dibattito tra confindustria e sindacati, mentre nei luoghi dove i clienti già sono obbligati a mostrare il certificato anche i titolari e dipendenti dovranno averlo. La stessa regola sarà applicata nella pubblica amministrazione. Passa dunque la linea dei ministri Renato Brunetta e Roberto Speranza, concordata con il presidente del Consiglio Mario Draghi, rimane la resistenza del leader della Lega Matteo Salvini ma all'interno del carroccio ha già detto sì il ministro Giancarlo Giorgetti. In queste ore si stanno valutando le posizioni dei presidenti delle regioni anche se il via libera della maggioranza di loro sembra essere ormai scontato. La scelta di procedere entro un mese mira ad ottenere due obiettivi già dichiarati dallo stesso capo del governo, rendere superfluo all'introduzione dell'obbligo vaccinale ed escludere nuove chiusure delle attività e soprattutto impedire che l'eventuale risalita della curva epidemiologica renda necessario il ritorno di bambini e ragazzi alla didattica a distanza come già avvenuto l'anno scorso. Dunque riepilogando il decreto estende l'obbligo di Green Pass ai dipendenti pubblici, ai titolari e dipendenti dei locali pubblici, stesso discorso per tutti gli altri luoghi dove il Green Pass è già obbligatorio come palestre, piscine, circoli sportivi, cinema, teatri, sale e concerti e sale da gioco. E ancora parchi tematici addetti al ricevimento in fiere, eventi e convegni, quasi sicura l'estensione agli addetti ai trasporti di lunga percorrenza, visto che per poter salire a bordo di navi, treni a lunga percorrenza e aerei, i cittadini sono già obbligati ad esibirlo. Ancora da sciogliere però il nodo aziende private, la trattativa tra confindustria e sindacati vede al centro della discussione il pagamento dei tamponi per i lavoratori che non hanno intenzione di vaccinarsi. I prezzi calmierati non sono infatti ritenuti sufficienti dai sindacati per concedere il via libera a far ricadere l'onere sui dipendenti e certamente non sarà lo Stato a farsene carico, anche perché questa eventualità è stata già esclusa per gli altri settori, in particolare per il personale scolastico e soprattutto perché farebbe comunque venire meno l'incentivo a vaccinarsi, rappresentato dal Green Pass obbligatorio.